Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Nella giornata di mercoledì alta pressione in crisi a causa del transito di un fronte freddo che determinerà rovesce temporali soprattutto sull'Appennino e lungo i versanti adriatici, solo occasionalmente invece lungo il versante tirrenico. Tende a migliorare a nord salvo resiude piogge sulle miglia Romagna e qualche nuovo isolato temporale pomeridiano dalle prealpi verso le alte pianure. Andiamo a vedere le temperature partendo dai valori minimi che saranno stabili o in generale lieve calo. Per quanto invece riguarda le massime ci attendiamo una decisa diminuzione soprattutto lungo i versanti adriatici dove il clima si manterrà particolarmente fresco, in maniera più contenuta invece lungo le tirreniche con clima ancora mite. Entriamo ora nel dettaglio previsionale partendo da nord Italia che vedrà una giornata tutto sommato discreta salvo maggiore nuvolosità e ancora qualche pioggia al mattino sull'Emilia Romagna, mentre come vi dicevo prima nel corso del pomeriggio potrà formarsi qualche temporale sulle prealpi in sconfinamento alla Valpadana centrale entrosera. Spostiamoci ora alle regioni del centro dove invece il tempo sarà decisamente più stabile, soprattutto per quanto riguarda i versanti adriatici dove avremo piogge temporali localmente anche di una certa intensità. Una certa variabilità interesserà anche le tirreniche ma con fenomeni al più brevi ed occasionali. Spostiamoci infine alle regioni meridionali dove il fronte freddo raggiungerà soprattutto nel pomeriggio i versanti adriatici e l'Appennino dove vedete avremo dei temporali anche in questo caso localmente di forte intensità, più riparati i versanti tirrenici dove comunque non escludiamo qualche breve e fugace fenomeno. Ai margini invece dell'azione depressionale alla Sardegna con tempo in prevalenza soleggiato per gran parte della giornata. Per adesso mi fermo qui ma per tutti i dettagli previsionali e gli aggiornamenti vi invito a consultare il sito trabimeteo.com